andiamo a ucciderli aspetta aspetta la mia vita mi sono rimasti 50 di vita mi hai tolto tutto dammi via non ti voglio vieni qui no cercherò un medic io ho fatto il danno però hai visto ti ho fatto tanto male e non mi hai preso ti ho preso si porco dio ti sto curando il culo è un coglione si i'm so sorry now you know ma io non so proprio un cazzo io so solo che sei uno stronzo io lo volevo provare sopra lo zoom poi appena ho cliccato ti sei messo davanti vai vai io prendo il clou appena si spende il fuoco ma c'è anche quello che esplode dai fuoco vai via oh no è il ragno era qua un medkit comunque dai dovete proprio scendere parkour cioè io ti ho visto che non c'eri salito e poi ti ci sei teletrasportato ok l'ho ucciso grande la mia pistolina di scorta quella mignonne la pistola dei buffi si guarda lì ehi malandrino hai l'abilità che spari veloce con quelle pistole prendiamo l'ultimo clou del ragno e poi andiamo verso l'assassino in tutti i posti forza qui dentro oddio oddio via via merda c'è il ragno qui oh sono all'entrata quella di là hanno anche sparato con un bel cannonazzo penso abbia una mini balestra col veleno beh se c'ha la mini balestra col veleno e fa il ragno è un buono stronzo beh dove pensavi fossero? no no era proprio dove hai lanciato la lanterna ah ok era uscito da lì però ora è rientrato è che è rientrato e è uscito subito dall'altra perché dentro c'è il ragno non può starci dentro e nascondersi dovrei salire il tetto questo qua penso lo devono l'ha ucciso ma lo deve ancora far partire il banish come dici io ho sentito giusto due soldi no che cara puttana lui mi prende attraverso e io no è sempre alla solita porta ma dentro comunque si l'ha già ucciso perché è dentro la prima volta ok 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 quindi qui Dimmi se trovi un kit medico Eh l'avevo visto ma non ricordo dove Ok l'ho ucciso Ok il suo amico sta arrivando dall'altra Colpito levatele non sa che l'ho ucciso Si è a terra morto Se avessero preso il bounty ci vedevano e boom Che colpo Si l'hai distrutto santa cazzo Dov'è il ragnotto Dov'è il cazzo scusami Eccolo qui Ok C'è uno che sta camminando in ginocchiato Preso Non è morto Ucciso C'è un altro c'è un altro Ucciso Visto che l'audio quanto cazzo è bello e importante in sto gioco Credo sia l'audio fatto meglio di tutti comunque Si sente esattamente da che parte sta arrivando E si sente tutto perfettamente E' fantastico l'audio di sto gioco Madonna Ho la balestra ma c'è un Mosin qua Però questa balestra fa male La balestra vale di più Madonna che soddisfazione averli sentiti in ginocchiati che camminavano Perché comunque c'è la cosa che ho sempre notato E' che fai comunque un po' di rumore anche da in ginocchiato Ok non c'è nessuno Usciamo da qua allora Aspetta vado a riprendere La mia trappola Ma non serve che la riprendi eh Cioè te la ridà lo stesso perché non è un consumabile È un oggetto Io non le riprendo mai ma ce le ho sempre Ah ok Sì perché non sono consumabili Sono Full Usciamo da qui E andiamo su Sì Tanto penso siamo rimasti noi due Quei due all'assassino Perché qua eravamo un 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 là E magari li hanno uccisi Quindi penso che possiamo andarcene tranquilli Tranquilli Sì sì Però fixare il desync e tutte le altre cose da fixare Ci sarebbe anche l'audio Ma veramente Ma è incastrato Ehi è incastrato qui Non può muoversi Ma che cazzo Esparatoria qua